Il rugby come veicolo di sport e di socialità a Brindisi fa tappa la seconda in tutto il meridione Leni Rugby Tour, un'occasione presso il parco Bucicchio di Brindisi, presso il quartiere Sant'Elia di radunare tantissimi piccoli regbisti che si sono ritrovati da tutta la Puglia per vivere questa giornata di festa all'insegna dello sport, all'insegna della convivialità La realtà Brindisina è da tantissimo tempo che vive, non solo sopravvive, ma vive da un grosso contributo al comitato regionale e a tutto il movimento regbistico regionale I prossimi obiettivi innanzitutto è crescere in numero, soprattutto in ambito mini rugby, quindi dai 6 ai 12 anni e poi consolidare quella che è l'attività delle giovanili che possono portare alle seniores Come Appia Rugby Brindisi, la parte della cooperativa Legami di Comunità e della comunità tutta che ruota intorno al parco Bucicchio sin dalla nostra fondazione nel 2019 e poi questi eventi qui, quindi l'Eni Rugby Tour che ha scelto Brindisi per la propria tappa meridionale oltre a quella di Siracusa, è un momento appunto di aggregazione e del sentimento appunto di comunità Sono felice, nonostante il tempo non sia dei migliori stamattina, di poter essere qui a questa festa del rugby in un campo che grazie a dei progetti è stato fatto vivere e che viene portato avanti e questo è uno sport particolare, forse è uno sport che più di altri può appassionare i ragazzi può essere una valvola di sfogo, può essere un momento di crescita URRA! URRA! URRA!